Ciao qui Librandi, come abbiamo anticipato la scorsa settimana oggi annunceremo il vincitore per il nostro concorso estivo. Rullo di tamburi, il premio andrà a Salvo Calabro che insieme a suo fratello ha fatto un brutto scherzo al giro lanciandogli un gavettone. Questo scherzo è valso a Salvo Calabro ben 27 mi piace, quindi ti si è giudicato questa fornitura gigantesca di Bancho Balloons giochi preziosi, la pompa speciale per gonfiare 100 palloncini tutti insieme, in meno di un minuto zeppi d'acqua che si sigillano da soli pronti per bombardare qualche povera vittima. Mi raccomando gli scherzi sono divertenti quando nessuno rischia di farsi male. Dunque il vincitore Salvo Calabro dovrà mandarci un email al nostro indirizzo, email vale a dire di branditoyschiocciolagmail.com che è scritto anche qui sul video, è scritto sotto nella descrizione, è scritto nelle informazioni del nostro canale praticamente dappertutto. Mi raccomando scrivici e noi ti faremo sapere come ricevere a casa tutti i premi. Per chi non avesse vinto questa volta non dovete perdervi d'animo perché ci saranno di sicuro altre occasioni in futuro, altri concorsi prossimamente. Allora ancora congratulazioni al vincitore, mi raccomando gli scherzi vanno fatti con un pochino di buon senso sempre e finché fa caldo divertiamoci con un po' di gavettoni. Ciao! 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 Ciao!